La motivazione. Chi vuole fare cambiamenti detesta la situazione attuale. Le persone in sovrappeso vorrebbero cambiare alimentazione e fare più movimento proprio perché detestano il loro aspetto fisico. Però mangiano tanto, si muovono poco e il loro aspetto peggiora perché continuano a prendere peso. È una situazione paradossale. Da una parte voglio cambiare, ma dall'altra continuo con le solite abitudini. Per risolvere questa assurdità in molti inseguono le novità dietetiche, illudendosi che fare l'ultima dieta alla moda sia un cambiamento. Ma tabelle grammature non fanno cambiare, anzi peggiorano la situazione. Dopo un po' si pensa così. Non sono capace, tanto vale che rimango come sono. Almeno posso mangiare quello che voglio. È questo il risultato di voler cambiare inseguendo le diete. Il falimento. In un programma per perdere peso no dieting, ovvero senza dieta, invece si lavora sulla motivazione. Sì perché per cambiare è necessaria un'adeguata motivazione. Da dove si inizia? Dal passo più importante, decidere in che modo si vuole perdere peso. Per fare questo devi prendere informazioni sullo specialista, il tipo di programma e i riferimenti scientifici. In questo modo puoi decidere cosa va bene per te. Se la tua scelta, come spero, è per un programma per perdere peso con il cambiamento dello stile di vita, allora hai fatto il tuo primo importante passo. Abbandonare l'idea di perdere peso con le diete. E la tua motivazione salirà, perché sei attivamente coinvolto. Se non fai questo, allora stai aspettando la prossima dieta magica. Pertanto non potrai lamentarti se tutto rimane come oggi, l'anno scorso o addirittura dieci anni fa. A presto!